Sindaco di Atri Gabriele Astolfi, che cosa prevede effettivamente la proposta del nuovo atto aziendale? Cosa prevede? È una proposta, spero anche che sia l'ultimo, degli atti aziendali proposti, poi sarà presentata oltre che al Comitato Ristretto dei Sindaci anche alla Regione per l'approvazione definitiva. Per questo credo che passeranno ancora parecchi mesi. Cosa propone? Fondamentalmente l'ospedale di Atri ne esce direi abbastanza bene. Le sei strutture di base, medicina, chirurgia, cardiologia, ortopedia, pediatria e punto nascita, quindi ostetricia e ginecologia, restano strutture complesse, quindi con primari. E quindi questo già mi sembra una cosa molto importante, perché rispetto alle paventate chiusure, cronicarie, eccetera, noi rimaniamo ospedale per acuti e lo rimaniamo a pieno titolo, perché veramente le sei strutture di base restano con primari. In più acquisiamo l'endocrinologia unità complessa, manteniamo di fatto tutti i servizi, tranne alcuni servizi che non è che non manteniamo, ma saranno insomma ristrutturati, io credo in maniera propositiva. Ci sono alcune questioni che sono ancora sul tavolo, tra cui l'urologia, che però finalmente oggi è stato risolto, perché l'urologia, abbiamo avuto la conferma ufficiale da parte del direttore generale Varrassi, che resta H24, che è la litotrissia, quindi il litotritore arriverà, in più ci sarà un altro urologo, per cui si potrà finalmente fare i turni in maniera corretta, quindi diciamo che posso ritenere in maniera definitiva che il problema urologio è un problema risolto. L'altro annoso problema che abbiamo affrontato qualche giorno fa con il Comitato Sanità è quella della psichiatria. La psichiatria, molti dicono che chiude la psichiatria di Atri, allora precisiamo una cosa, la psichiatria di Atri non chiude, perché il centro di salute mentale e la psicoterapia, quindi restano strutture a valenza dipartimentale, quindi la psichiatria sul territorio, che noi riteniamo sia il futuro di questa branca, resta completamente. Il problema riguarda i posti letto, riguarda l'SPDC, cioè i posti letto e i ricoveri in psichiatria. Noi per questo, visto che secondo le direttive regionali due sole unità complesse di psichiatria possono esserci in provincia di Teramo, e una è a Giulianova, l'altra è a Teramo, noi abbiamo chiesto che in mancanza di questo, cioè se non è possibile tenere unità complesse di psichiatria, che ci sia una convenzione con l'università, con un professore che faccia riabilitazione psichiatrica e quindi tenga il reparto in H24 con ricoveri ordinari di posti letto e che ci sia anche una cura per l'Alzheimer, secondo noi una cosa molto importante. Questo è quanto chiede l'amministrazione, l'abbiamo chiesto al Presidente Chiodi, nonché Commissario della Sanità, l'abbiamo chiesto al Direttore Generale Varrassi, stiamo lavorando per questo e abbiamo affrontato l'argomento con il Comitato Sanità che mi sembrava, insomma, avesse recepito tutto quanto. Un altro problema che noi riteniamo molto importante e che è stato risolto anch'esso oggi è quello della gastroenterologia e dell'oscopia perché erano rimasti senza strumenti, perché gli strumenti erano mai vecchi, obsoleti, erano praticamente inutilizzabili. È partita la gara per l'acquisto dei nuovi strumenti per l'ospedale di Atri, per il reparto di gastroenterologia. In attesa sono stati trasferiti proprio questa mattina gli strumenti da Giulianova ad Atri, in modo che lunedì non ci sia interruzione di servizio. Un altro passaggio importante, e qui è forse quella che mi vede meno d'accordo con l'atto aziendale, ma non perché cambi qualcosa per l'ospedale di Atri, è il fatto che il reparto di anestesia e rinimazione da unità complessa diventi unità a valenza dipartimentale. Tengo a precisare che non c'è differenza per il cittadino tra unità complessa e unità a valenza dipartimentale, quindi il servizio resta integralmente, H24 con i ricoveri, insomma anestesia e rinimazione funziona esattamente così. Però non riusciamo a capire, e anche questa è una richiesta che noi abbiamo fatto al direttore generale, come mai a Giulianova ci sia una struttura complessa, in mancanza di ortopedia e punto nascita, quindi di ostetricia e ginecologia, che quindi usano molto la sala operatoria e quindi hanno bisogno di anestesisti e di rinimatori, mentre l'ospedale di Atri dovrebbe avere un'unità a valenza dipartimentale. Diciamo che è più che altro una questione tecnica, anche di principio se vogliamo, anche perché i numeri dell'ospedale di Atri sono sotto l'aspetto chirurgico e sicuramente superiori a quelli dell'ospedale di Giuliano.